Agli arresti domiciliari da un anno, eppure, l'alcamese Vito Nicastri continua ad essere un nome vivo e vegeto all'interno della politica che conta, confermando ancora una volta i suoi agganci altolocati tra i colletti bianchi. Il suo nome spunta nell'ambito di una doppia indagine che prende spunto dalla D.E. di Trapani e che si allarga addirittura sino a Roma e mette nei guai le alte sfere di politica e Stato. Indirettamente è finito nei guai proprio il sottosegretario ai trasporti della Lega, Armando Siri, indagato per corruzione dalla Procura di Roma. Molto più direttamente invece viene travolto Paolo Arata, ex deputato di Forza Italia, responsabile del programma della Lega sull'ambiente, che, secondo l'accusa, avrebbe ricevuto denaro per modificare una norma da inserire nel DEF 2018 che avrebbe favorito l'erogazione di contributi per le imprese che operano nelle energie rinnovabili. Norma mai approvata però. Anche lui è indagato con l'accusa di concorso in corruzione, un distinguo necessario perché il sottosegretario, anche da quanto sostenuto dai pubblici ministeri, pare che non avesse alcuna conoscenza diretta dell'imprenditore alcamese definito il re dell'eolico, 62 anni, ritenuto tra i finanziatori della latitanza del boss di Castelvetrano, Matteo Messina Denaro. L'indagine, condotta in parallelo anche dai PM di Roma, ipotizza uno scambio di favori, utilità e denaro per agevolare aziende considerate vicine proprio a Nicastri, il quale, nonostante sia stato raggiunto da una maxiconfisca da un miliardo di euro, avrebbe continuato, tramite un familiare, a manovrare per fare affari. Proprio sulla base di questa inchiesta, per lo stesso alcamese, è stata inasprita la misura cautelare ed è tornato in carcere. Arata, invece, ha avuto un ruolo, a quanto pare, di diretta conoscenza con Nicastri. Secondo i PM siciliani, sarebbe stato in affari con l'imprenditore dell'eolico. Perquisizioni sono state disposte sia a Palermo che negli uffici dell'assessorato regionale all'energia e a Roma, oltre che nell'abitazione e nelle pertinenze dello stesso Nicastri, ritenuto un prestanome del superlatitante Matteo Messina Denaro. Al centro delle verifiche disposte dai pull coordinati a Palermo dal procuratore aggiunto Paolo Guido e nella capitale dall'aggiunto Paolo Ielo, una serie di permessi gestiti dalla regione siciliana con l'assessorato all'energia. Il fine ultimo di Nicastri sarebbe stato quello di fare approvare una norma che avrebbe previsto ulteriori incentivi e finanziamenti negli investimenti nel campo delle energie alternative. Non so niente, non ho idea, non so di cosa si tratti. Devo prima leggere e capire. Ho letto di nomi che non so. È la prima reazione a caldo del sottosegretario. Sicuramente non c'entro niente con vicende che possano avere risvolti penali. Mi sono sempre comportato nel rispetto delle leggi. Sono tranquillo.